Direi un'atmosfera veramente bella questa di Piazzetta della Lega, il pubblico di Alessandria che segue divertito canzoni e poesie firmate da Sandro Locardi. La Piazzetta è anche questa attrattiva, quindi noi l'abbiamo un pochino, diciamo così, inarricchita con queste poesie alessandrine e la Piazzetta è Alessandria. E per rivivere Alessandria nella tua prima presenza quale poesia hai scelto? Solitudine, è una poesia che avevo presentato a un concorso ad Arqui, ha avuto successo e me lo ripresento qui al pubblico alessandrino. Per l'applauso del nostro pubblico Giancarlo Prato, Solitudine. Grazie, ben Solitudine perché oggi siamo forse più soli di una volta, magari ci siamo in tanti insieme vicini però dentro qualcuno si sente solo. Io l'ho vista in questo modo. Solitudine. Come dice invece un po' tempo fa con un sorriso sereno, pieno di esperienza. Antista solitudine, a stai niente a me, la fa parte a un fondo due giorni dell'esistenza. Ma non è un'altra, che ha la mia d'età, e che fa sentire in tappi e niente d'altro. Ma te la dico perché è allo pruare. All'è, mi sentissi solo a mezz'aiate. La seconda è trattata...